Ecco che è appena stato inquadrato la figura del padre narrata dal mosaico. Ed ecco la benedizione finale, qui unicata dalla custode. Dio di misericordia, che ha dato un esempio di carità nella passione del suo unico figlio, che viene dita nel servizio di Dio dei vostri fratelli, che vi diano la ricompensa della vita eterna a voi che conoscerete la morte temporanea. Voi che avete seguito Cristo nella sua umiliazione, possiate diventare partecipi della sua risurrezione. Rispondiamo anche noi, Ame che significa così sia. Ed è ancora il saluto del diacono, ci invita ad andare in pace. E' un canto bellissimo. E i frati che escono. Ecco, vediamo a fianco al custode, Il signor Giuseppe Cazzarotto Si riesce a comprendere che è molto caldo all'interno della Basilica. Siamo a Gerusalemme. La Basilica è nostro Signore Gesù Cristo dell'agonia del Cezema. Il tetto della Basilica che racconta la notte e l'abbassamento di quella notte anche attraverso il mosaico Gerusalemme, la palle del Cedro. Ecco gli olivi, la notte Sentiamo ancora il sottofondo del coro ed ecco la Basilica. Ogni nostra preghiera viene raccolta dalle mani di Gesù e portata al Padre. Ogni nostra lotta Ogni nostra luce ritrovata nella preghiera trova una precedenza nel Signore Gesù Cristo che qui ha lottato, qui è entrato nella notte di tutte le notti.